Il sito vivo potrebbe avere queste applicazioni, Marco chiede informazioni su una presentazione all'Agriturismo e il Podere, magari l'Agriturismo e il Podere che è ad Assisi non ha più disponibilità in automatico, se lo sappiamo che l'Agriturismo e il Podere non ha disponibilità potremmo fare inviare in automatico un SMS se abbiamo codificato il cliente tramite nome, cognome, numero di telefono, email e quant'altro e inviare in automatico tramite gli strumenti di sito vivo un eventuale messaggio di promozione delle altre strutture con quelle caratteristiche nella zona, stessa cosa l'email, stessa cosa ne parlavamo proprio prima con Fabio il far apparire un messaggio istantaneo, cosa che la suite fa, sulla disponibilità di altre strutture nella stessa zona quindi il poter comunicare direttamente con l'utente che l'abbiamo identificato e siamo sicuri che è interessato a quella struttura in quella zona, in automatico il sistema trova l'alternativa per comunque dargli una soluzione se la struttura in questo caso potrebbe essere piena